ebbene adesso abbiamo un altro autorevole partecipante a questa nostra riunione che saverio gaeta penso che tutti voi conosciate molto bene saverio gaeta laureato in scienze della comunicazione sociale ma io aggiungerei anche e soprattutto della comunicazione religiosa avendo scritto più di 60 libri sulle apparizioni mariane su mistici proclamati santi e su mistici non ancora canonizzati se cliccate il suo nome su wikipedia per avere la sua biografia troverete la lunga lista di tutti i suoi libri più di 60 il suo libro più recente intitolato dieci volti del mistero dieci donne che parlarono con dio una di queste dieci è appunto maria valtorta che saveria saverio gaeta quindi è un profondo studioso che ha passato molte ore sui libri di maria valtorta e siamo quindi molto lieti di averlo oggi qui tra noi prego grazie ovviamente mi unisco anch'io ai saluti ai ringraziamenti agli organizzatori a tutti voi che siete qui presenti a quelli che sono collegati in streaming con noi e agli amici di nuovi orizzonti che ci ospitano e il tema che mi è stato affidato è quello di maria valtorta un'anima donata che è un sinonimo di un'anima vittima come già è stato in qualche modo anticipato anche da monsignor tasciotti come frutto di quello che è stato il suo percorso di vita la sua accettazione quella che potremmo racchiudere in una semplice parola che tanti hanno usato ma che va sempre bene per descrivere figure come questa mistica che ha parlato con dio non solo con lui ma anche con gesù con maria e con anche diversi santi proprio per documentare testimoniare che il cristianesimo è una religione incarnata è l'unica religione che ha visto un dio che si fa carne ed è la religione che permette di essere certi sicuri convinti e sereni nell'immaginare che qualcuno possa ancora oggi parlare col soprannaturale anche perché in qualche modo è quello che tutti noi speriamo un giorno potremo vivere in prima persona e dunque quella parola è eccomi perché lei appunto è un'anima donata per questo motivo credi che a dio piaccia di vederti soffrire non pensarlo come ne soffriva per il figlio dell'uomo patente in croce per gli uomini egli la bontà soffre di doverti far soffrire ma tu lo hai chiesto per assomigliare a gesù in tutto e dio ti contenta basterebbero queste parole che maria valtorta ascoltò dall'angelo azaria nella nottata fra il 28 e il 29 gennaio 1946 per sintetizzare l'itinerario di donazione di questa anima vittima di questa anima donata che scelse di rispondere con quel suo eccomi a quello che era l'invito da prima implicito poi sempre più esplicito del salvatore ed è un'anima vittima un'anima donata che è un tassello di tante altre sue consorelle perché in particolare l'ambito femminile quello della donazione quello delle anime vittima un tassello che la fa essere appunto uno dei tanti tasselli di un grande mosaico soltanto guardando interamente il mosaico con i suoi tanti tasselli si comprende la figura complessiva ma ciascuno dei tasselli è essenziale per mostrare la immagine piena e totale dunque si è trattato quello che maria valtorta ha scelto di portare a compimento di una missione soprannaturale liberamente accolta e portata a compimento che appunto accomuna la valtorta a altre mistiche che hanno scandito la storia spirituale degli ultimi mille anni ma in particolare del novecento e allora qualche accenno anche ad esse ci permette di cogliere come non sia un fiore nato nel deserto maria valtorta ma sia realmente una delle tante personalità mistiche che hanno potuto consentire a noi di comprendere qualcosa di più dell'attualità della vita di fede perché questo è il compito delle mistiche non dire cose nuove non raccontarci un quinto evangelo ma permetterci di comprendere di andare più a fondo di percepire di gustare di assaporare la bellezza della fede in maniera incarnata gesù stesso ne definì in più occasioni la concreta sostanza e l'efficace azione di maria valtorta come delle altre mistiche in favore dell'umanità tutta non è qualcosa di riferito soltanto un piccolo ambito ma è tutta l'umanità che viene coinvolta in questo afflato lo dettagliò a lei stessa il 10 settembre 1944 una volta le prime volte che ti fui maestro ti ho parlato della funzione tua e delle anime tue simili ho detto voi siete i portatori e i fulmini portate cristo tra i fratelli ostensori vivi e pulpiti di carne perché il mondo mi veda e da essi io possa parlare alle turbe di cui ho pietà ma siete anche parafulmini che stornate le sventure con la presenza vostra non perché sia vostra ma perché voi attirate me e dove io sono non è sventura ma protezione chiunque abbia avuto la grazia di frequentare queste anime elette come abbiamo ascoltato dalla testimonianza poc'anzi poter rendersene conto in prima persona ovviamente come per esempio in altri ambiti accadde a un ispettore scolastico che si recò a casa di teresa musco un'altra di queste anime elette per verificarne le condizioni di salute poiché era stata segnalata la sua mancanza prolungata alle elezioni scolastiche ebbe una toccante reazione allargò le braccia ed esclamò ma questa è davvero il parafulmine dei nostri peccati natuzza evolo mistica morta recentemente che tutti abbiamo sentito sicuramente nominare si sentì dire direttamente da gesù da te ho un sorriso dal mondo ho piaghe e bestemmie io ti faccio le piaghe per amore poiché anche ella aveva le stimate perché voglio conquistare anime io ne ho parafulmini ma il più grande parafulmine sei tu perché non ti vuoi arrendere e anche alla beata portoghese alexandrina maria da costa paralizzata anche lei come maria valtorta lei dall'età di 14 anni perché si era gettata dalla finestra per sfuggire a una violenza carnale sappiamo che invece maria ebbe quel colpo sulle reni che poi la rese via via sempre più paralizzata e il signore spiegò ad alexandrina ti faccio soffrire perché tu mi possa salvare molte anime tu sei il parafulmine della giustizia divina per mezzo tuo e di altre anime non sono caduti i tremendi castighi ecco oggi probabilmente parole come queste appaiono inattuali dobbiamo dirlo con franchezza dobbiamo dirlo con chiarezza negli odierni tempi in cui giustizia e misericordia divine sono spesso interpretate con categorie umane quelle retributive del do ut des oppure se non appunto addirittura quando non vengono poste in contrapposizione fra loro mentre giustizia e misericordia nella logica della salvezza come ci testimonia maria valtorta nei suoi tanti scritti come testimoniano tante altre mistiche ci dice che nella logica della salvezza ci sono fra giustizia e misericordia una continuità e una correlazione che il signore stesso come fa sempre a tutte queste mistiche e quindi una tra virgolette va all'altra ma ci sono alcune che magari hanno avuto una specifica rivelazione che permette di essere molto sintetici tutte le cose che dico citando altre mistiche sono presenti in maria valtorta ma magari appunto le cito attribuendole a queste altre mistiche perché in sintesi dicono molto più rapidamente quello che vorrei trasmettervi che il signore spiegò così in questo caso a santa faustina covalsca non voglio punire l'umanità sofferente ma desidero guarirla desidero stringerla al mio cuore misericordioso e allora faccio uso dei castighi solo quando essi stessi mi costringono a questo la mia mano afferra malvolentieri la spada della giustizia prima del giorno della giustizia mando il giorno della misericordia le anime vittima non sono dunque un frutto di questi tempi recenti e difficili bensì rappresentano una antica tradizione che affonda le radici nell'immagine del capro espiatorio immolato dagli ebrei dinanzi al tempio di gerusalemme in espiazione dei peccati del popolo non è fare una memoria storica quella che vi propongo ma è concretizzare queste figure in una antichissima tradizione che è sempre vera sempre viva gesù cristo con la sua incarnazione con la redenzione da lui attuata si è fatto egli stesso agnello sacrificale ma poi tutti i suoi seguaci sono stati in un modo o nell'altro coinvolti nell'opera della salvezza lo siamo anche noi perché siamo testimoni di quell'unica verità di duemila anni fa che ancora oggi viva attuale vera ed è carne e sangue tutti i suoi seguaci dicevo sono stati coinvolti nell'opera della salvezza come già nel primo secolo l'apostolo paolo testimoniava in prima persona ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dal patimento di cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la chiesa e d'altra parte lo sappiamo bene perfino l'esemplare più puro della virtù cristiana maria la madre del redentore ha fra i titoli più noti quello dell'addolorata con la raffigurazione del suo cuore trafitto da sette spade simbolo di altrettanti dolori che subì di tutto ciò possiamo dire che maria valtorta ebbe consapevolezza interiore sin dagli anni giovanili come documenta un suo autografo che risale al novembre del 1912 quando l'allora quindicenne prese parte agli esercizi spirituali predicati dal vescovo giovanni cazzani nel libretto che le suore distribuivano come ricordino sulle pagine dedicate alla riflessione e ai propositi per il futuro ella scrisse una perentoria sintesi il mio programma per la vita futura la mia norma di condotta verso la mia famiglia verso me stessa verso il prossimo verso dio una scala che conduce al sommo una unica frase scriveva maria ma che è vasta come gli oceani e profonda come essi e che può empire di sé la più lunga vita sacrificio e dovere in ogni ora in ogni contingenza 30 anni più tardi quasi come un primo bilancio commenterà sacrificio e dovere in ogni ora in ogni contingenza era la frase di partenza sono stata fedele a questo proposito e se qualche volta la mia umanità pareva trionfare sul mio spirito sono però sempre presto tornata a praticare in pieno il sacrificio e il dovere e posso dire che completamente in disparte non li ho mai posti anche se le tentazioni furono tali e le mie gioie nel dovere così nulla da suggerire di abbandonare quel proposito e abbandonarmi alla corrente un'esperienza di carità e di misericordia quella di maria valtorta che si è costantemente dilatata non è rimasta chiusa all'interno di quella stanzetta ma come se le finestre fossero costantemente aperte si è diffusa all'esterno le spiegò gesù il 12 dicembre 1943 chi sono i giganti dell'amore sono le anime vittima voi distinguete queste in vittime di giustizia vittime di espiazione vittime d'amore ma non distinguete la vittima è sempre vittima d'amore l'anima vittima è sicura come fosse già chiusa nel mio eterno regno di essere salva poiché ogni suo palpito moto parola sentimento azione è santificata dall'amore che la preserva tutta da inquinamenti umani l'amore delle vittime che è l'amore più simile alla perfezione del mio è quello che fa argine all'impeto che da satana monta per distruggervi in una maledizione disperata e che apre le porte del perdono fondendole col fuoco del loro olocausto fra le fra le anime vittima si costituisce poi misteriosamente anche un legame spirituale che in varie circostanze ha fatto sì che a distanza di tempo e all'insaputa l'una dell'altra ricevessero i medesimi messaggi talvolta è perfino un conforto ulteriore una conferma divina della veridicità della credibilità di quei messaggi gesù lo confermò a maria mostrandole tre croci indicanti oltre alle stesse altre due anime vittima nella città di viareggio fra cui antonia dal botte ruzzi che era appena morta con la spiegazione che per lei è venuta la pace e come il cristo dopo il martirio viene calata dalla croce per essere seme a vita beata saluta l'anima sorella le altre due croci sono di altre due vittime l'una è tua è ancora alta verso il cielo perché la tua missione dura ancora un poco sembra quasi di sentire quando la santa in itinere lucia di fatima attualmente ancora serva di dio ma è in processo di beatificazione in corso anche se con qualche rallentamento mentre i suoi due cuginetti sono già appunto elevati alla colonizzazione quando le fu detto dalla vergine tu resterai sulla terra mentre i tuoi due cuginetti moriranno prima perché avrai ancora un compito da svolgere e anche a maria valtorta fu detto così perché la tua missione dura ancora un poco e i tempi di dio sappiamo che non sono i minuti o i giorni ma quel poco alle volte sono anche decenni come documentano tante nostre mistiche che hanno vissuto questa donazione totale è brullo il monte e triste la sua triplice corona ma vedi quanto è vicino al cielo e quanto cielo ad intorno e il mondo come è lontano siete già fra l'altare e il cielo parole veramente ispirate ovviamente essendo pronunciate dal redentore o mie care vittime e gli angeli sono intorno a voi per raccogliervi lo spirito quando consumate l'ultimo dolore nel tempo dell'adolescenza poi racconterà maria nella sua autobiografia scritta su indicazione del direttore spirituale come sappiamo fra marzo e aprile del 43 cominciai a soffrire di premonizioni nel sonno interi avvenimenti futuri mi si svolgevano davanti alla mente con una acutezza di particolari che era uno spasimo il primissimo episodio dalle citato avvenne alla fine del 1910 pensiamo veramente quasi agli inizi di questa sua avventura e certamente in un'epoca in cui ancora non percepiva fino in fondo il senso pieno di queste premonizioni che appunto sono anche un modo per corroborare la credibilità e la veridicità che anche loro stessi ovviamente talvolta mettono non in dubbio ma in discussione perché il timore è sempre grande quello di poter avere delle situazioni di incomprensione di quali siano le volontà divine e dunque lei per esempio una notte dice vedi chiaramente una carica di ulani austriaci per le vie di una cittadina che sapeva nel sogno essere una città di secondo ordine del Veneto quindi aveva anche inquadrato geograficamente il luogo di questa premonizione vedevo i nemici sciabolare dall'alto dei loro cavalli i nostri soldati che cercavano di arginare l'avanzata e un giovane ufficiale dei nostri abbattersi con la fronte spaccata da una palla mi svegliai con un urlo e alle sore accorse disse la guerra la guerra gli austriaci in Italia ecco queste premonizioni nel corso della sua vita si intensificarono facendole maturare la dolorosa consapevolezza di tanti altri mistici pur nella piena accettazione del progetto divino di questo dono se può chiamarsi così ne farei volentieri a meno studiando tanti mistici e tante mistiche mi sono reso conto di questo noi nella nostra ingenuità pensiamo ma guarda un po' questi doni che hanno conoscere il futuro sapere cosa accadrà sentire la certezza che il Dio onnisciente, l'unico Dio che conosce il futuro dona loro e invece è un grande peso, un grande compito che non ha una spiegazione è una grande anche fatica talvolta proprio perché ovviamente nessuno di loro sa cosa farne non è che possono pubblicare sui giornali domani comincia la guerra o dopo domani crolla la borsa di New York perché sarebbe ovviamente assurdo pensarlo e quindi è un peso ma allo stesso tempo è la conferma che non sono premonizioni possibili per un essere demoniaco oppure non sono frutto di un autoinganno ma hanno in questo modo la conferma della certezza interiore che diventa anche concretamente vera dell'origine divina di tutto ciò che stanno ricevendo e che donano poi ai fratelli nei quaderni del 1943 si trova la spiegazione di Gesù riguardo al senso di tali profezie quelle donate alle mistiche che conferma come alla donazione personale che le mistiche danno di se stesse della propria vita corrisponda poi una sovrabbondanza dei doni divini a un piccolo dono corrispondono tanti grandi doni la profezia scrive appunto la Valtorta parlando a nome di Gesù può avere dei periodi di ripetizione o di apparente negazione che poi invece risultano essere unicamente una prova data da Dio alla fede degli uomini tutte le profezie antiche e moderne dico antiche quelle da Adamo alla mia venuta e moderne quelle dalla mia venuta al momento presente poiché i vostri venti secoli sono una frazione di ora rispetto alla mia eternità sempre Gesù che parla queste profezie antiche e moderne presentano dei punti in cui sembrano errate poiché secondo voi dovevano accadere in un dato periodo e non sono accadute ma l'occhio del mio servo vede col mio occhio voi invece vedete col vostro onde il mio servo parla o ripete il mio nome e ciò che voi credete già superato può essere evento ancora da avverarsi nel futuro questa è una grande risposta anche a tutte le polemiche le obiezioni, le discussioni che anche in questi tempi in questi ultimi 15-20 anni anche dopo la rivelazione di quella parte numero 3 del segreto di Fatima si sono ripercosse in tanti nostri ambienti ecclesiastici è una risposta che viene da Gesù i miei segreti sono i miei segreti le mie profezie so bene io quando si verificheranno voi abbiate la compiacenza di fidarvi del fatto che sono io all'origine di tutto ciò e che talvolta come sappiamo le profezie possono anche essere rimandate o addirittura annullate in relazione a quanta è la forza della preghiera, del digiuno, della sofferenza, del sacrificio che vengono messi in campo anche per evitare quelli che nella terminologia spiccia diciamo castighi ma che non sono delle punizioni astratte sono il modo con cui alle volte c'è quel richiamo che potremmo immaginare come una tiratina d'orecchio che anche il cielo talvolta ritiene giusto opportuno darci dunque Maria Valtorta con questa immolazione di tutta se stessa che l'ha definitivamente resa un'anima donata un'anima vittima rientra a pieno titolo in questa eletta schiera di cui Gesù parlava per tutte le profezie anche quelle dei più grandi spiriti concludeva il suo pensiero Gesù ecco e lei rientra in questa eletta schiera riguardo alla quale già nel IV secolo il monaco e scrittore ecclesiastico conosciuto come lo pseudorufino spendeva parole impegnative il genere umano vive grazie a pochi se non ci fossero quelli il mondo perirebbe e a sigillo della verità di questa attestazione la testimonianza di Santa Faustina Kowalska proclamata appunto santa da Giovanni Paolo II e dunque riconosciuta anche nella concreta veridicità di tutte le sue illuminazioni che rientrano perfettamente a tutto tondo nell'orizzonte di Maria Valtorta di Teresa Musco di Luisa Piccarreta di Elnaiello e di tante altre mistiche anime vittima parafulmini che come fanno appunto questi strumenti che risparmiano gli edifici dai fulmini risparmiano noi dalla forza di quello che potrebbe accadere nell'ambito appunto del rapporto tra misericordia e giustizia e cosa diceva Gesù a Santa Faustina Kowalska il Signore mi ha fatto conoscere chi è che sostiene l'esistenza dell'umanità sono le anime elette quando il numero degli eletti sarà terminato il mondo cesserà di esistere ecco Maria Valtorta è uno di questi esseri eletti grazie a Dio ne esistono tanti molti dei quali anche nascosti e sconosciuti quindi che il mondo cesserà di esistere possiamo pensare che riguardi un futuro anche abbastanza lontano ma a noi spetta il compito di richiamarci sempre le verità che ci propongono queste anime vittima queste anime elette queste anime donate perché nel nostro cammino sono realmente di grande utilità per convincerci sempre di più che la certezza che abbiamo nel cuore è anche una certezza concreta e ragionevole da riporre anche nel cervello e persone come Maria Valtorta che hanno scritto opere così ragionevoli oltre che così emotivamente coinvolgenti sono realmente la testimonianza più completa e piena a 360 gradi della verità della fede cattolica grazie grazie ecco grazie mille adesso abbiamo un altro intermezzo letterario molto breve grazie a te grazie a te di gloria umana, si precipitò dall'alto dei cieli un richiamo soprannaturale. Il primo. Il sonno. Il sogno. Dato il primo per riposo della carne stanca, serve esso pure per la nostra parte membruta. Il sonno con le sue dita felpate socchiude la porta del mistero, serrata a noi mortali e dallo spiraglio visioni, sprazzi di luci, voci ultraumane, piovono ad invito e consiglio. Tutti talora incontrano in certe ore che hanno apparenza di pesantezza, di opacità, a volte come sono nel sonno cieco, queste onde misteriose provenienti da altre sponde e che lanciate nello spazio da una volontà suprema vengono a rompersi, a rovesciarsi, a penetrare in noi. E noi, come terre sotto un flusso d'acque, rispondiamo ognuno in misura propria a questo urto d'onde spirituali, appunto come sponde che diversamente accolgono il bacio delle acque. Le aride scogliere, in vano frustate dagli schiaffi delle maree, sempre restano secche e dure, come le anime superbe, chiuse ad ogni voce di bene. Le terre piatte si immelmano, invece di mondarsi sotto quel lavacro d'acque, così come le anime degli ignavi. Le sfuggenti restano quelle che erano, avanti il flusso, come restano uguali, anche dopo il prodigio, gli indifferenti. Solo le terre ben curve, allido, feraci, desiose di mutarsi sempre più per nutrire quel pullular d'erbe che le abbellano, si aprono grate, accolgono liete, trattengono amorose l'onda pia che le penetra e feconda, così come le anime assetate di spiritualità siano bacini aperti a ricevere le voci dal cielo. Molto si è discusso e si discute sul sogno, e specie su certi sogni che fra i mille puerili di tutte le notti portano una inconfondibile marca soprannaturale. Ma è certo che durante il sonno corporale l'anima è desta e vigile, per accogliere il soprannaturale, e tanto più lo è, quanto più quest'anima è spirituale, sensibile, attenta, meditativa, innamorata, pura. Innamorata soprattutto di Dio, o non sempre sulle prime, ma del bello, di una idea, di una scienza, di una missione. L'amore, anche se umano o morale, quando persegue uno scopo retto, è sempre scalino per salire all'amore più alto, a quello divino. Aggiungcio